Non ci rassegniamo ad una concezione ragionieristica della democrazia, della legalità e della rete dei servizi ai cittadini. Il consigliere regionale del PD, Santo Chirico, chiarisce così il sostegno della proposta di legge dei consiglieri Navazio e Mollica sulla modifica dei criteri di revisione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Il provvedimento prevede, tra l'altro, di estendere la facoltà adatta ai comuni di farsi carico degli oneri di funzionamento degli uffici del giudice di pace e di sostenere le spese relative ai costi degli edifici giudiziari in modo da garantire la presenza del Tribunale nel proprio comprensorio. Sull'argomento, il capogruppo del Popolo della Libertà, Pagliuca, ha annunciato la presentazione di una mozione con la quale chiederà alla Giunta regionale di reperire le risorse finanziarie da trasferire al Comune di Melfi nel prossimo quinquennio per la gestione dei locali del Tribunale.